ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come caduta libera il super campione michele marchesi fa un annuncio che fa piangere gerry scotti il conduttore in lacrime per la scelta addio a caduta libera per michele marchesi screenshot video ultima parola com una notizia improvvisa e per certi versi in attesa ma che dopo essere stato a lungo protagonista di una trasmissione televisiva italiana potevamo anche aspettarcela la notizia riguarda il super campione di caduta libera michele marchesi il quale qualche giorno fa aveva tagliato il traguardo delle 100 presenze nel programma televisivo in onda su canale 5 nello specifico il medico bresciano è rimasto per 103 puntate nel quiz show condotto da gerry scotti e ora ha preso una decisione drastica un messaggio quello di michele marchesi che ha lasciato senza parole i fan del quiz show di canale 5 che dopo aver detto addio qualche tempo fa un altro bresciano il super campione nicolò scalfi colui che più di tutti ha vinto in una trasmissione televisiva italiana vede ora un nuovo abbandono con 656 mila euro vinti infatti il medico bresciano era il secondo più ricco in assoluto tra tutti coloro che hanno partecipato a un quiz show nel nostro paese fatto salvo per chi è arrivato fino in fondo a chi vuole essere milionario e adesso ha deciso di dire basta le ragioni dell'abbandono sono legate alla professione e agli impegni che michele marchesi ha scelto di prendere nella propria vita ha spiegato infatti che la partecipazione al quiz show ha sottratto tempo ai suoi impegni lavorativi e per tale ragione è necessario fermarsi qui di certo non abbandona il programma televisivo di canale 5 senza essersi portato a casa oltre a una bellissima esperienza anche un gruzzoletto di tutto rispetto che non è per niente male anzi è davvero cospicuo il ringraziamento più importante il campione di missionario di caduta libera lo fa a gerry scotti che è davvero l'anima di questa trasmissione il conduttore da parte sua dopo le parole di michele marchesi non riesce a trattenere le lacrime di commozione ed evidenzia come sia importante che il campione lasci la trasmissione per inseguire i suoi sogni lavorativi vista anche l'importante professione che esercita grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti